UfficioPostale.it, è l'Italia che cambia. Abbiamo fatto una settimana bella intensa, ci siamo allenati tutti bene e affrontiamo questa partita nei migliori dei modi. Andiamo al Forenzuola, una squadra molto ma molto brava tecnicamente, noi andiamo lì per fare la nostra partita come sempre, come ogni settimana. Il nostro cammino che dobbiamo puntare alla salvezza è stato un po' dura perdere l'Alessandria al 93esimo, però per fortuna il calcio dopo una settimana bisogna subito sbottare pagina, andiamo lì per fare una grande prestazione. Se facciamo 9 punti si può dire che siamo già salvi, però noi pensiamo a Forenzuola che è sabato, poi pensiamo al martedì per Gubbio e poi di nuovo al fine settimana. Puntiamo a fare come stiamo facendo nei migliori dei modi ogni partita come sempre. A livello personale sono arrivato col botto, spero di fare ancora meglio, appunto da fare qualche golletto, speriamo che viene Maria, cosa migliore, prima la salvezza e poi ho raggiunto il mio obiettivo.